Su 4.350 aventi diritto hanno votato 2.482 gadini, cioè significa il 56,9% degli aventi diritto al voto. Il 5% in meno rispetto alle amministrative di due anni fa. A Favignana hanno votato 2.500 elettori, all'Evanzo 124, a Marettimo 307. Nella fattispecie per le tre liste all'Evanzo hanno votato 61 elettori per Braschi e la sua lista, 39 elettori per Forgione e la sua lista, 23 elettori per Maria Sinagra e la sua lista. A Marettimo Braschi ha totalizzato 125 preferenze, Forgione 126, Maria Sinagra 51. A Favignana, ripeto, nel momento in cui vi parliamo mancano ancora 150 voti circa per concludere definitivamente il dato elettorale e dunque avere quello definitivo. Ma al momento in cui vi parliamo Braschi ha totalizzato 288 preferenze, Forgione 1035, Maria 832 voti. C'è uno scarto di circa 180 voti tra il primo e il secondo. Significa che il primo Forgione diventa sindaco, la seconda capo dell'opposizione. E' una responsabilità enorme e noi dovremo saper rappresentare tutti. Chiudiamo la stagione delle vendette, degli odi, delle ripicche. Ripartiamo domani con una buona amministrazione e con una politica gentile. Si adegueranno tutti. La prima cosa che farà per l'Egadi, la prima cosa. La prima cosa che farò per l'Egadi stasera è una bella festa perché è la festa dell'Egadi. Questa, questa. Ciao a tutti.